Inizia con la prova strutturale, Silvia, in premio, Gino Circi, presidente della Silvia. Il titolo, lo sponzore del campionato italiano di Palazzo, il terzo articolo è Azzurra, Maradi, di Perugia, di Silvia, di Palazzo, il libero è il numero 10, Federico Tosi. Inizia con il titolo, il titolo, il titolo, il titolo di Milano, il titolo, il titolo, il titolo... Come si sta autentando? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti